Poco più che 50enne, nato il 10 novembre del 1962, Gianandria De Cesare è l'uomo dello sport avellinese, anzi il Grit Ghesbi d'Irpinia, provincia la quale è legato e dove la sua azienda, la Sidigas, esprime il massimo business. Dopo essere stato indotto a salvare il basket nel maggio del 2012, da ieri il proprietario della Sidigas è diventato anche il volto del nuovo corso del calcio avellinese. L'offerta presentata dal gruppo è stata ritenuta la più idonea ed hanno fatto scalpore i 31 assegni presentati per un totale di 4 milioni di euro come base del progetto. Chi ha imparato in questi anni a conoscere De Cesare sa che quando il patron del CAS vuole qualcosa, la prende. L'ingegnere partenopeo con delle semplici mosse ha messo a segno il suo colpo, lo ha fatto usando le proprie armi, affidandosi innanzitutto a professionisti seri che gli hanno consentito di presentare la migliore offerta possibile. Il manager, discreto e signorile, vuole regalare soddisfazioni agli sportivi avellinesi. Con la Scandone Avellino ci è riuscito negli ultimi anni, ma i primi non sono stati tutti rose e fiori. Alla squadra di basket ora si aggiunge il calcio e la realizzazione di una polisportiva che dovrà strutturarsi su basi solide. Ci vorrà organizzazione e programmazione, cosa che non c'è sempre stata nel basket, là dove alle volte il modus operandi è stato in netta antitesi con una società professionistica. Nel calcio i tempi sono diversi dal basket, anche la formazione dell'organico richiederà tempi rapidi. De Cesare dovrà quindi circondarsi di professionisti a cui dover delegare per la riuscita del progetto.